La sardinia è sacra, la vita nostra la devi chiedere per bene, se è una vita che sta bene, si sta prima per bene, poi si piglia su panno. Invece di premiare i pastori che producono vita, no, di manganello, la vita, anche le manganello con le persone che creano varie china oppure prodotti per ammazzare la gente, no, nei pastori perché creano che cosa? Vita, questo è vita, tu se mangi un pezzo di questo sta continuando la vita, non è prodotto plastica, questo è formaggio e se tu mangi formaggio continua a vivere, se mangi in plastica pure. Se la pastorezza manca la crisi, l'economia per me è toglie di sardinia, oggi è toglie la fabbrica che non è andata. non dovremmo imponere a tenere stipendio e allora bisogna fermarsi un pochino e dire ma forse è bene soddisfare il nostro fabbisogno alimentare e basta e non più confondere i desideri con i bisogni. Io l'ho proposto in regione quindi li proporrò di nuovo, io a questi pastori come Ettore che vivono in questi territori ma non gli avrei dato un aiuto, gli avrei dato un premio, l'avrei premiare perché produrre qua non si capisce come si riesce a produrre, capito? e non si capisce come si riesce a produrre, capito? e non mi aiuto